Devono pazientare ancora un giorno gli alunni della Gandiglio che hanno le aule senza riscaldamento per un grave guasto all'impianto, sempre che tutto vada per il meglio. I tecnici del comune sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina alla ricerca del guasto che ha provocato l'interruzione del calore nei termosifoni delle aule del corridoio Lato Mare. La perdita è stata localizzata nelle tubature che passano sotto il pavimento della palestra grande. L'edificio è stato realizzato nel 1962 e le tubature mostrano inequivocabilmente i segni del tempo e dell'usura, mentre la caldaia alcuni anni fa è stata rifatta e posizionata sul tetto dell'edificio. Fortunatamente l'impianto è stato sezionato e quindi in caso di guasto solo l'ala interessata ne soffre le conseguenze e non tutto l'istituto, altrimenti oggi con tutta la scuola al gelo sarebbe stata una falcidia di alunni, che invece in maniera stoica, nonostante l'annuncio che il dirigente ha voluto diramare attraverso questa emittente, pur sapendo dell'inconveniente, si sono diligentemente presentati questa mattina all'appello. Allora, innanzitutto ringrazio FanoTV che ha accolto la mia richiesta ieri di provare a informare preventivamente le famiglie, però questa mattina i ragazzi, anche sapendo che c'era questo problema, sono arrivati a scuola in maniera abbastanza regolare, direi. Quindi noi stiamo cercando di seguire la situazione per quello che possiamo. Il Comune, appena abbiamo fatto ieri richiesta di un controllo, ha fatto intervenire i tecnici, stamattina, già prima delle otto, sono al lavoro, è stata individuata la perdita dell'impianto, quindi mi auguro che in breve tempo si possa mettere a posto tutto quanto. Dati certi non ne abbiamo però. Quindi ancora qualche giorno di disagio ci sarà? Potrebbe esserci, non sappiamo di preciso, le informazioni ancora dipendono appunto dalla diagnosi che si sta facendo, vedremo se le cose vanno in fretta e siamo anche un po' fortunati, bene, altrimenti ci sarà forse anche domani o qualche altra giornata di difficoltà. Dalle ultime valutazioni della squadra tecnica, se i pezzi da sostituire arrivano nei tempi giusti e non si manifestano altre perdite, nella giornata di domani i lavori dovrebbero terminare e quindi per giovedì mattina l'impianto dovrebbe entrare in funzione regolarmente e le aule quinti pronte ad accogliere gli studenti con la giusta temperatura.